la tensione della batteria è 12.2 volts altitudine meno 0,3 metri angle è off a dpm mission è on la tensione della batteria è 12.0 volts altitudine 0,6 metri 12 satelliti la tensione della batteria è 11.5 volts altitudine 5,0 metri 16 satelliti la tensione della batteria è 11.5 volts altitudine 5,0 metri 17 satelliti la tensione della batteria è 11.3 volts altitudine 6,0 metri 18 satelliti angle è off a dpm mission è off la tensione della batteria è 11.8 volts altitudine meno 0,4 metri attenzione nessuno